Amici sportivi, siamo venuti come tradizione vuole al primo giorno di ritiro del Dertona FBC 1908 e vi presentiamo uno degli acquisti più conosciuti, vale a dire Gianluca Zucchini, il nuovo centrale del Dertona. Ciao Gianluca e benvenuto a Tortona. Buonasera a tutti, grazie per il caloroso benvenuto, sono molto contento di essere qui. Allora Gianluca ti abbiamo conosciuto l'anno scorso, nella scorsa stagione perché nella seconda parte del campionato hai giocato nel Pondonnà, sei venuto a giocare anche qui a Tortona, un difensore centrale anche col vizio del gol perché mi sembra che l'anno scorso 4-5 li hai fatti in campionato. Sì sì sì, diciamo che sono stato abbastanza fortunato questi due anni, comunque ho fatto una decina di gol e sono riuscito a far gol un po' in tutte le maniere, da rigore, punizione, di testa, sì dai sono stato fortunato. Allora Gianluca Zucchini innanzitutto se non ricordo male sei di Modena e hai giocato anche in categorie superiori, anche nella squadra della tua città. Sì, fortunatamente sono riuscito ad esordire in Serie B con la squadra della mia città e ho fatto tutto il settore giovanile fino alla prima squadra, fino al fallimento dopo ho incominciato diciamo la mia carriera perché prima prevalentemente era un allenarsi con giocatori molto più forti. Allora parliamo di questa tua avventura qui a Tortona, oggi è solo il primo giorno ma immagino avrei avuto modo di confrontarti sia con mister Fossati che col direttore generale Canepa. Quali sono le tue prime impressioni e secondo te cosa può fare questa squadra? Ma devo dirti la verità, sai prima di venire qua i giocatori comunque ci conosciamo, si informano, parlano e chiedono informazioni, mi avevano tutti parlato benissimo del Dertona e devo dire che le aspettative hanno superato di gran lunga le cose positive che mi avevano detto quindi come ti ho detto prima sono molto molto contento. Per quanto riguarda la squadra adesso è un po' presto, ci alleniamo, studiamo, fatichiamo poi quando sarà il momento ci metteremo sotto. Avete già iniziato a parlare col mister, giocherete a tre, ti trovi bene dietro? Ma sì, da quello il mister vorrebbe giocare a tre, a me diciamo che prediligo la difesa tre, mi piace molto di più ho fatto sia il centrale che il braccetto di sinistra, preferisco il braccetto di sinistra ma mi adeguo molto volentieri e basta. Allora io ti ringrazio, ti faccio un grosso in bocca al lupo per il campionato, vedo che l'accento di Modena l'hai già un po' perso e quindi sei pronto per questa sfida col Dertona. Grazie in bocca al lupo. Grazie mille a voi, crepi il lupo. Grazie.